e avere, ripeto, Cazzefì per noi è stato molto importante. Senti, invece per quanto riguarda gli alberghi e i ristoranti sul territorio, hanno risposto, diciamo, dando anche il loro contributo o meno? Sicuramente. Si posso dire che girare in questi giorni, in queste serate, da girare, vedere i ristoranti pieni, vedere Montano, tornato da televisioni e fans, da quel movimento alla città che è da un piaciasmo che in questo momento serve a ripartire in un momento così di crisi, diciamo, così come anche gli alberghi, gli alberghi sono comportati bene, sono tutti contenti, questo è quello che è importante, cioè promuovere il nostro territorio con servizi che lasciano soddisfatti i nostri, chi viene da Cireale in particolar modo, in particolar modo. A Cireale avete anche un vivaio di giovani schermidori? Ah, abbastanza. Diciamo che tutta la Sicilia è quella di ottimo assoluto sotto questo aspetto, ma poi in particolar modo al reggirale, abbiamo Enrico Carosco che nei primi quattro discuterà la divisione finale finale qui in Tarana e Daniele Carosco che sta lottando per andare anche lui nei primi quattro.